Francesco dalla provincia di Benevento dice Io ho avuto la fortuna giovedì scorso di vedere la partita allo stadio Un'ora ottima, poi il solito calo con conseguente pareggio di Gomez Secondo voi questa Europa League è così importante? Io la reputo solo un danno per il fisico dei giocatori Beppe, per te è importante? Per me è importante Perché per cominciare ad assaporare trionfi in Europa E' anche giusto alzare una Coppa che non sia subito la Champions League Anche perché appunto non ne abbiamo avuto purtroppo l'occasione di poterlo fare Però è una Coppa di ripiego considerato da qualcuno Però fa pur sempre sentire un peso in ambito europeo Insomma io l'alzerei Assolutamente Prendiamo... Assolutamente Grazie a tutti.